I residenti del caratteristico borgo di Montepagano a Roseto degli Abruzzi chiedono maggiore attenzione all'amministrazione comunale e anche ai residenti. Questo perché oltre all'illuminazione che manca in alcuni tratti con neon installati al posto degli storici lampioni, alcuni rotti e non funzionanti, i cittadini segnalano le mancate potature che in alcuni casi, come il Largo Santa Caterina, non permettono l'apertura delle finestre, ma anche panchine arrugginite, pericolose e rifiuti lasciati sui muretti. La Tavico, il problema che mancano, gli scivoli per i disabili, e questo è un segno di civiltà che dovremmo assolutamente tutelare, totale abbandono del verde pubblico, ormai abbiamo le piante dentro casa, non davanti ma dentro casa, e poi l'illuminazione che è carente, il parco giochi di notte è al buio, è trasandato, non c'è cura e dobbiamo invece mantenere questo gioiello, un gioiello e non una cosa completamente opposta. I problemi ci sono, sono tanti e fa male al cuore vedere questo stato di abbandono. L'appello è all'amministrazione, che si è da poco insediata, l'appello è al comitato di quartiere, che si è da poco insediato, quindi confidiamo nel loro intervento l'appello è anche ai cittadini, perché un vaso di fiori per uno potrebbe diventare tutta un'altra cosa, tutto un altro aspetto. Una condizione su cui i residenti chiedono interventi mirati e celeri da parte dell'amministrazione comunale, per questa frazione che rappresenta il centro storico del comune costiero, molto apprezzata da turisti e non solo. Il gioiello di cui noi siamo orgogliosi di far parte e vogliamo che continui sempre in questo modo e anche meglio, e proprio per questo ci stiamo muovendo, sollecitando tutti a fare in modo che le cose vadano avanti. Noi non ci fermeremo mai perché il problema deve essere risolto e devono dirci come lo vogliono risolvere, perché loro sono gli amministratori, anche perché questo, come giustamente è stato detto, sono da tantissimi anni che c'è questo problema, ma certe cose, soprattutto sulla potatura delle piante, ormai siamo fuori da ogni logica. Questa è un'ordinaria gestione, deve essere già fatta, non possiamo aspettare di più.